Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video, sono sempre io, Free2Buy e oggi siamo qui per presentarvi alcune news e il mio primo giorno di scuola dopo la fantastica serie dell'anno scolastico ragazzi, allora, cominciamo subito col fatto che prima cosa vabbè, comunque, non è andato proprio nei versi giusti come doveva andare nel senso che io mi organizzavo con il mio amico per tenergli posto e che sarei andato sempre io prima a scuola e che ho un banco dove da tre anni sono seduto proprio lì dietro a tutti, dove tutto è tranquillo, come piace a me ma soprattutto con il mio amico, molto simpatico con cui mi organizzo, cerco a sedermi al banco del vogliamo e lui si presenta in un banco proprio dall'altra parte della classe si organizza e comunque come potrebbe andare a finire, secondo voi va a finire che io mi mando, l'ultimo che viene in ritardo è il più sfigato della classe ragazzi, e si siede vicino a me a me si siede ragazzi, vi piace di essere questa, l'ultima puntata potremmo dire il piano scolastico incominciato e dico soprattutto di mettere controllare qui perché metterò tutto il piano scolastico e comunque ragazzi cominciamo prima ora arte non facciamo niente perché il primo giorno ti ha portato il rabbi a disegnare e secondo ora italiano ci dice di fare i cartelloni per i bambini, i ragazzi di prima e li andiamo a fare, li facciamo e fino a questo sabato, io sto giustando domenica abbiamo fatto solo quello e le femmine qualche coreografia poi soprattutto le cartelloni c'erano in materie non molto indispensabili non facevamo niente ce le andavamo a divertirci per la classe ragazzi troppo divertente ok, ora potremmo passare a qualche news incominciamo con la prima news che sto cominciando a registrare le Revelation che per quelli noi del canale non so se Revelation sempre qua sopra lo scopriranno e il contenuto della serie che abbiamo fatto a portato ragazzi, sta venendo a piovere in un mesi, sta abbassando l'illuminazione anche nel fronton del canale che c'è la luce qui davanti comunque, ragazzi cominciando a registrare Revelation una volta fido tutte le registrazioni di Revelation le editerò e una a una la cominciò a inviare a caricare ragazzi vi dico subito la serie non inizierà questo mese ma il prossimo perché abbiamo fitto a settembre se si scrive 2 quindi che senso avrebbe portarla e soprattutto ragazzi siamo vi ringrazio che siamo quasi a 200 iscritti al 200 porterello speciale siamo a 700 views quasi io ne vedo gli iscritti non vi preoccupate non sto bleffando quindi ragazzi possiamo salutarci qui c'era un prossimo video che sarà la recensione di FIFA 18 da un'anteprima quindi ragazzi ci vediamo in un prossimo video quindi ciao